11 denunce altrettanti da Aspo arrivati alla vigilia della partita che riporterà sugli spalti del San Nicola i supporter del Bari e quelli dell'Avellino. Due tifoserie che il 23 agosto scorso si sono fronteggiate a suon di lanci di petardi e seggiolini e tentativi di invadere uno lo spazio dell'altro. La Digos ha filmato tutto e ha riconosciuto i protagonisti quattro baresi, tra i quali c'è anche un dici a settenne e sette avellinesi. Tra loro ci sono tre tifosi del Bari e della squadra campana che avevano già avuto il Daspo, ora gli è stato inasprito 5 anni con obbligo di firma, per tutti gli altri varrà 3 anni. Domenica per Bari-Avellino misure di sicurezza rinforzate, i pullman degli ospiti verranno scortati, chi verrà trovato con petardi anche piccoli sarà arrestato immediatamente, mentre gli elicotteri sorvoleranno lo stadio per riprendere qualsiasi intemperanza. Ho lanciato degli appelli che spero siano raccolti dalla stragrande maggioranza della tifoseria barese e anche quella vellinese, perché io non cedo all'idea che gli ultrami siano tutti violenti, non lo sono, però un'assunzione di responsabilità tutti se la devono porre. La stragrande maggioranza della tifoseria deve contribuire a questo, far capire a queste persone, a questi pseudo tifosi che inquinano l'immagine della società, l'immagine della tifoseria e c'è un danno di immagine alla città.